È il 28 febbraio 2018 a Uffanengo, Cremona, e Just a Few Images è a Radio Croda. Siamo con Isabella Conca, voce dei Leather Brown. Ciao Isabella, come stai? Ciao, tutto bene. Tu ma sai? Benissimo. Molto bene, molto bene, molto bene. Sì, ho vent'anni, arrivo da un paesino sperduto, e che nessuno probabilmente conosce. Comunque, nonostante questo, faccio parte di un buon gruppo. Sai, lo canto. Mi piace molto, mi piace molto. È bello perché facciamo rock, sono pezzi italiani, sono pezzi inediti. Che scrive il chitarrista, mi sa che sbalda. E niente, ho conosciuto queste persone che sono molto speciali e mi hanno fatto sentire subito come se fossi una di loro, nonostante non ci conoscessimo fin da subito. Oh, vabbè, ma c'hanno anche un sacco di difetti. Tantissimi difetti poi. Vabbè, il batterista... Vabbè, il batterista è un batterista. Il chitarrista ha le sue crisi. Vabbè, ma io tante volte non mi ricordo neanche i pezzi. Vabbè, comunque... E... niente... Cosa ti posso dire? Come sto? Che bella domanda di merda. E... Basta. Basta. Posso salutare il mio cane? Ciao, Toppi. Grazie. Grazie a te. Grazie a te.